Chiusura in grande stile a Lucca Comics & Games con la prima nazionale del film dei Peanuts, Snoopy & Friends. L'abbiamo visto con Dario Moccia, che cosa dici? Mi ha garbato una marea, non so a te, però a me mi ha garbato tantissimo perché comunque è il film dei Peanuts che secondo me collega la vecchia generazione dei fan delle strisce di Schultz e una possibile nuova generazione che può amare i personaggi dei Peanuts perché abbiamo tutti quegli elementi che sono ritrovabili, riscontrabili nelle strisce di Schultz, tutti i personaggi Charlie Brown, Linus, Piperita Patti, l'insegnante che non parlano e che ci sono questi colpi di trombone come nel vecchio cartone, tutti i personaggi sono esattamente come nella striscia interagiscono come nella striscia e ci sono tantissime eccitazioni e tributi ai punti saldi della striscia quindi l'aquilone, la palla tolta al momento del calcio di Charlie Brown, il tema in classe, Piperita Patti che è sempre stupida e dorme sempre, ci sono tutto, poi il barone rosso, c'è qualsiasi cosa delle strisce di Schultz e poi i bambini anche che magari non conoscono i Peanuts li sentivo ridere come pazzi perché finalmente è un film pulito senza bisogno sempre del rutto e della scurreggia per far ridere i bimbi dove ci sono tantissime gag coloratissimo, allegro è veramente una bomba, secondo me è una bomba è un film molto fisico, molto slapstick come si dice in gergo, c'è molta fisicità nelle gag sì sì, come poi in certi tratti c'erano anche nelle strisce di Schultz certo, poi Schultz piano piano con l'avanzare dell'età ha cercato di trasformare i suoi Peanuts in messaggeri di quello che voleva comunicare Schultz sulla società, sui comportamenti umani eccetera eccetera qui invece si è cercato di trovare una via di mezzo, cioè non siamo andati troppo sul drammatico o comunque sul serioso ma nemmeno troppo sul cacciarone quindi c'è un equilibrio che può piacere veramente a tutti c'è uno magari come della generazione di mio padre o non lo so, del mio zio che leggevano le strisce anche io leggevo le strisce dei Peanuts anche te sarai forse padre o zio, non lo so, comunque si ritrova sullo schermo tra l'altro, eccolo qua, eccolo qua ciao Snoopy si ritrova sulle strisce, ritrova nel film quello che vedeva sulle strisce e i bambini si diventano come pazzi diciamo che ci sono due tracce nel film, c'è quella dell'avventura di Charlie Brown che si relaziona con la ragazzina dei capelli rossi che è la nuova arrivata a scuola anche quella è una cosa della striscia tra l'altro ragazzina dei capelli rossi viene riabilitato Charlie Brown, poverino che era sempre massacrato, preso in giro invece qui viene preso con i suoi difetti e viene considerato una bella persona nonostante faccia un sacco di gaff, faccia sempre dei casini incredibili ecco quella diciamo è la parte un pochino più sofisticata per modo di dire per un film di bambini e poi c'è la parte invece molto divertente che funziona anche sui bambini più piccoli che è quella proprio del viaggio di Snoopy che mette in scena la sua sfida al Barone Rosso sì 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 e chiaramente c'è anche lì la cosa bellissima di lui che scrive sopra la cuccia è fighissimo ora, piccolissimo micro spoiler il fatto che il Barone Rosso, cioè l'aereo di Snoopy sia la sua cuccia non viene mai inquadrata sotto, viene inquadrato quel pezzo che si vedeva nelle strisce cioè questa cosa è fighissima perché addirittura ci sono degli elementi in tecnica tradizionale in 2D che si fondono alla grafica 3D, alla computer grafica che ovviamente anche lì si ricollega al fumetto agli effetti sonori del fumetto, alle onomatopei chiaramente del fumetto e a tutte le nuvolette insomma qualsiasi cosa è collegato strettamente alla striscia la parte in 2D diciamo la parte tradizionalmente del fumetto di Schultz rappresenta le loro fantasie i loro pensieri e questo lega la nuova animazione in 3D alla vecchia animazione in 2D è un omaggio, anche commovente è un omaggio, è un tributo al 100% cioè veramente Steve Martino è regista, si è studiato qualsiasi cosa della striscia e si vede c'è un amore profondo e l'ha buttato lì dentro quindi i puristi finalmente potranno stare zitti perché già dal trailer c'erano delle lamentelle ma come si fa a fare un film sui pinuts è una striscia, è considerata forse la striscia per eccellenza snature, un film in grafica computerizzata snatura la striscia di Schultz in realtà abbiamo visto che così non è stato e poi l'hanno sempre detto gli Schultz ragazzi non vi preoccupate, non infangheremo la memoria di nessuno cercheremo di fare un film che rispetta al 100% la striscia quindi state tranquilli, ci stiamo affidando a una persona che li ha sempre amati e che venera i pinuts ed infatti così è stato e quindi io direi per chiudere senza spoilerare niente della storia possiamo dire quello che però è l'ultima immagine del film prima che partano i titoli di coda beh diciamo che c'è, cavolo però, vabbè diciamo che c'è una trasformazione da computer grafica a un'altra cosa e poi c'è secondo me un elemento abbastanza commovento ovvero la filma di Schultz che in qualche modo va a firmare un film che postumo ha benedetto che gli sarebbe piaciuto ecco in sala secondo me si sarebbe commosso di vedere questo grande tributo d'amore va bene, con Snoopy e Dario Moccia vi salutiamo da Luca ciao ciao